Dopodiché l'atto comune, noi siamo molto attenti a verificare attraverso il lavoro della questura se le voci che ci sono sulla gestione dei parcheggi o degli ambulanti possono essere vero e in quel caso noi saremmo direttamente ridati in ballo. Ho chiesto il comandato dei vigili tramite la questura di verificare. E' chiaro che i parcheggi sono gestiti dalla società partecipata da Inter a Milan mentre sul piazzale è tutta la responsabilità nostra, quindi vediamo un attimo se emergono situazioni anomali.